La Chiesa, composta da uomini peccatori ma redenti mediante il battesimo, ha il compito di proclamare al mondo sofferente la misericordia divina. Con queste parole Papa Francesco ha salutato la delegazione del Patriarcato di Costantinopoli, giunta a Roma in occasione della solennità dei Santi Pietro e Paolo. Entrambi, ha detto il Pontefice nel suo discorso, fecero esperienza del peccato prima di divenire instancabili annunciatori e impavidi testimoni della salvezza offerta da Dio ad ogni uomo in Gesù Cristo. Se come cattolici e ortodossi vogliamo proclamare insieme le maraviglie della misericordia di Dio al mondo intero, non possiamo conservare tra noi sentimenti e atteggiamenti di rivalità, di sfiducia, di rancore. La misericordia stessa ci libera dal peso, da un passato segnati da conflitti e ci permette di aprirci al futuro verso il quale lo Spirito Santo ci guida. Ribadendo che l'unità non vuol dire uniformità, ma sempre comunione nel rispetto delle legittime diversità, Papa Bergoglio ha ricordato con gratitudine la visita compiuta lo scorso aprile sull'isola di Lesbo, insieme con il Patriarca Bartolomeo e con l'Arcivescovo di Atene di tutta la Grecia, Ieronimus II, per incontrare profughi e migranti in fuga dalla guerra. Occorre fare ancora molto, ha precisato, per assicurare dignità e giustizia a tanti fratelli e sorelle. Assumere insieme tale responsabilità è un dovere che tocca la credibilità stessa del nostro essere cristiani. Incoraggio, perciò, ogni forma di collaborazione tra cattolici e ortodossi in attività concrete al servizio dell'umanità sofferente.